Io credo che ormai la questione, la vicenda del mostro di Firenze si sia persa nelle nebbie del tempo. Quello che è attuale e sul quale, secondo me, che purtroppo ho pagato a caro prezzo, è dover indagare sull'indagine, sul mostro, è quello che stanno facendo. Ma mi dica qualcosa in più su Giutteri, su questa posizione, Giutteri, Mignini. Giutteri, le posso regalare questa notizia che non so per quale motivo non viene pubblicata, ma le regala una notizia che il cosiddetto Gides, gruppo investigativo delitti seriali, non esiste, non è mai esistito. È un'ipensione.